Ci dico qualcosa sul congedo dei genitori con i bimbi a casa, ma è una richiesta che noi abbiamo avanzato in maniera molto determinata al nostro governo. Nel momento in cui il governo ha deciso di chiudere le scuole e io credo che la cosa sia necessaria per la tutela dei nostri bambini e per evitare che si possano creare dei focolai ulteriori, nel momento in cui è stata presa questa decisione bisogna fare in modo che i genitori però non si trovino in difficoltà, bisogna fare in modo che ci sia la possibilità di curare i bambini che rimangono a casa e che non hanno nessuno che possa controllarli, stare con loro. Io credo che la soluzione migliore sia quella che sia uno dei due genitori a prendersi cura dei propri ragazzi, dei propri figli, possa stare con loro, possa accompagnarli e possa farli sentire felici e contenti anche di rimanere a casa da scuola. Quindi abbiamo avanzato al governo una serie di richieste per fare in modo che ci siano approntate delle misure, non entra nella tecnicalità perché è un po' un pasticcio, è inutile che ve lo spieghi, l'importante è che il genitore possa rimanere a casa, assistere, stare in compagnia di uno dei due dei propri bambini, continuare a prendere lo stipendio e l'impresa, l'azienda non ci rimette a niente. Quindi questo è il concetto di fondo, il genitore a casa prende lo stipendio, l'azienda non ci rimette niente e verrà risarcita del fatto che un lavoratore non può andare sul posto di lavoro.